E così, dopo un oblio durato secoli, l'antico caricatore di sciacca sembra orientato a riacquistare il prestigio che davvero meriterebbe, o quantomeno quell'attenzione degna di un bene candidato a rappresentare parte del ricco patrimonio storico architettonico del territorio di appartenenza. Come dimenticare l'emozione provata quando per la prima volta ci siamo imbattuti alla riscoperta delle innumerevoli fosse granarie, ormai in disuso ma che ancora caratterizzano gran parte del suolo del quartiere marina e non solo. L'occasione si è presentata ai nostri occhi in fase di realizzazione di una tra le più suggestive e interessanti puntate del programma sciaccavista prodotto da TRS, volto alla valorizzazione del patrimonio monumentale della città termale. È una puntata che ci ha visto andare alla riscoperta dell'antico borgo marinaro di sciacca che ci ha permesso di ammirare ed apprezzare quello che ancora oggi rimane dell'antico caricatore, un sistema di grandi fosse a forma di imbuto rovesciato scavate nella viva roccia dove si accumulava il frumento prima di essere negoziato. Luoghi ricchi di storie per troppo tempo rimasti nell'abbandono e nel dimenticatoio e per i quali oggi sembra concretizzarsi la possibilità di recupero e di valorizzazione attraverso l'organizzazione di eventi culturali ed iniziative che facciano da richiamo per gli utenti, saccenzi e turisti che siano e che avrebbero così la possibilità di visitare parte dell'antico caricatore e conoscerne la storia e la sua originaria funzione. Aurelio Schittone, queste antiche grotte del caricatore, quest'estate diventeranno sede di un mercatino per la vendita di prodotti tipici locale, un modo per riscoprire questi luoghi e la loro storia? Sì, finalmente grazie all'amministrazione che ha trovato terreno fertile, un salvatore, un sindaco abbastanza con le orecchie aperte. Ecco, diciamo che ho avuto varie richieste per poterlo visitare, ho visto la cittadinanza interessata e oltre, il sito è molto bello e la sua storia è affascinante. Finalmente con un po' di orgoglio, da magazzino facevano le sarde, sono riuscito a quello che è un sito archeologico che va a studiare la storia di Sciacca e se ci sono le mura e se abbiamo i tanti monumenti lo dobbiamo alla ricchezza del caricatore che fu nel passato il motivo della nostra ricchezza e il benessere di Sciacca. Il luogo che già la scorsa estate ha ospitato la mostra di maiolica artistica proposta dall'Associazione Ceremisti di Sciacca tornerà dunque ad essere sede di altri eventi culturali, quali un'esposizione di pittura che verrà inaugurata il prossimo 18 maggio e il mercatino estivo, la cui proposta è già al vaglio dell'amministrazione comunale. La proposta avrà il sostegno del Comune di Sciacca che fornerà in questo caso il patrocinio? Sì, perché riteniamo opportuno che valorizzare questi luoghi che sono un po' memoria storica della nostra città è necessario. Ancora una volta che alla Francesca ci troviamo in un luogo che tu stessa hai raccontato alla città grazie alla tua trasmissione che oggi è maggiormente conosciuto, quindi bisogna utilizzarlo anche grazie alla disponibilità dell'amico Aurelio Scrittone affinché diventi un luogo da poter tramandare anche ai nostri ragazzi, ai nostri più piccoli che non conoscono minimamente intanto la funzionalità di questo luogo ma anche la sua essenza vera e propria. Quindi la realizzazione di iniziative che potranno ovviamente occupare la fase del calendario estivo è per l'amministrazione un punto di forza. Poi ci troviamo in uno dei quartieri più antichi della nostra città che ha anche interesse per i nostri turisti. Quindi vengano queste iniziative e spero ovviamente che tutto quello che Aurelio sta studiando possa raggiungere il traguardo e offrire così alla città la possibilità di vivere un luogo che è memoria storica e dall'altro apprezzare tutto quello che riuscirà a farne da contorno. Aurelio Scrittone